Il cross al centro su Perizza di testa a Toloi, Bruno Fernandes ancora per Perizza che segna il gol del 2 a 0! Il gol di Perizza, colpo di testa sulla cross di Bruno Fernandes e arriva il gol del 2 a 0 dell'Udinese. In pieno recupero il gol del 2 a 0 con Perizza, azione di Widmer, il colpo di testa di Toloi ad allontanare, poi bravo Bruno Fernandes a metterla dentro, la difesa dell'Atalanta si è letteralmente persa Perizza che di testa ha messo la palla in rete. Per Perizza è il secondo gol quest'anno, è il 2 a 0 Udinese e ora l'Atalanta nella ripresa dovrà giocare molto meglio di quanto ha fatto nel corso del primo tempo.